Salve a tutti, ci troviamo nella The Walls e siamo nella mappa... Quale mappa? Ah sì, siamo nella mappa Nether, quindi è la mappa del Nether. In questa si trovano caverne nascoste con un po' di chest, penso. Se capito nella mappa giusta, cioè nel pezzo di mappa giusto, potrei trovare delle chest fighe. Abbiamo un Creeper Assassino, molto semplice, skin davvero non originale, cioè ormai la vedo da tutte le parti, non mi piace neanche tanto. Abbiamo questa skin che invece è fantastica, guardate che figo, favoloso, guardate che bella faccia, Igor. Mi sta anche bene il nome. Abbiamo un militare di Call of Duty Black Ops, o no, Call of Duty Modern Warfare 2. Bella ragazzi, siamo qui su Call of Duty Modern Warfare 2. Abbiamo la classe Cecchino e abbiamo un Barrett. Abbiamo un Pony, ma non so il suo nome, mea culpa, ragazzo biondo, ragazzo biondo, cavaliere biondo, no, 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 non è biondo, però è un cavaliere figo. Mancano ancora un po' di giocatori, eh. 17 su 24 siamo. Un cani... un... come si chiama? Un uomo delle caverne. Sì. Un semplice ragazzo con delle semplici cuffie. Con il microfono. Ragazzi, ascoltatemi, con il microfono, eh. Che figata. Questo chi è? Figo. Jens. Bella questa skin. Bella, bella. Questa è la skin più originale di tutte. Un Heartless. Favolosa. Se non sapete cos'è un Heartless, potete anche meglio nascondervi in casa. O vergognarvi, sì. Dovete vergognarvi. Ok. Ah, sì, cos'è? Ah, ok. No, è iniziata, perfetto. Oh, cibo. Cibo. Cibo, cibo. 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 Mio, mio. Mio, mio. Cest, mia. No, non è niente, no. Mio, mio, mio. Cibo. Perfetto. Perfetto. Ottimo. Il cibo è l'unica cosa più importante. Ceste. No, ce n'è una doppia ceste in questa mappa. Ora devo cercarla. Se la trovo sono un grande. Se non la trovo faccio cagare, veramente. E la cosa più importante che c'è, ci sono delle ceste nascoste, con delle entrate nascoste, però si vedono. Uh, della gravel. Mi serve per fare l'accendino. Allora, dov'è, dov'è? Se non la trovo, prendiamo la legna e scendiamo in fretta. Oh, qui no. Nada. Vai. Prendiamo legna. Legna. Quattordici minuti all'Armageddon. Quattordici minuti all'Armageddon. E non mi riferisco al film di Michael Bay del 2000. Che, pur essendo un film del 2000, era davvero favoloso. Cioè, vedete che effetti speciali c'è nel 2000, eh? Spero che sia nel 2000. Siccome era nel 2000, non mi ricordo. E, naturalmente, è fatto dal grandissimo Michael Bay. Quindi, eh, no, la tolgo. Penso che quello là abbia trovato la cesta. Ma non penso. Andiamo giù. Perfetto. Continuiamo ad andare giù. Dobbiamo sbucare in una caverna. Se ci buttiamo direttamente nella lava, siamo fregati. Però, tecnicamente, noi non dovremmo farci danno in questi 15 minuti. Non mi ricordo. No, si fa danno, sì, sì. Quindi devo avere culo. Never dig down. Lo so, però è l'unica cosa che mi riesce bene. Ecco, guardate, è quasi beccato. No, volevo fare il canestro. Vediamo se c'è una cesta. No, non c'è una cesta perché conosco questo posto. Stupidi lag. No. Ok. Prendiamo il ferro prima che scenda qualcuno. Prendiamo anche il carbone per salire di livello, visto che si trova nei shunting table. Non voglio essere fregato nel scoprire che non ho livelli. Tanto li faccio lo stesso anche nella fornaccia, ma poco mi interessa. Il carbone mi serve adesso lo stesso. Ho il cibo, che è la cosa più importante, che non si trova. In queste mappe. Cioè, alla fine finisci per morire di fame. Se non ti uccide qualcuno. Perché è così. 12 minuti. Meglio che faccio subito la fornaccia per non sprecare il tempo. E non ho la roccia. Che bastardo. No, non ho la roccia. Non la trovo qui. Cacchio. No. No, ma dai. Ah no, aspetta, io sono il team blu. Ok, pensavo fosse morto il mio compagno. Stavo per urlare. Eh, devo trovare la roccia ora. Devo scavare attraverso le mura. Perché qua non la trovi. Vediamo se là giù c'è una cesta. Lo so, non ci vedete niente. Resistete due secondi che tanto non c'è niente di importante da vedere. Non c'è una cesta. Andiamo. Quindi, in questo lago di lava, prendo questo ferro. E dobbiamo sbrigarci. Li vedo lassù che girano. Massimo, vado su subito. No, no, no. No, sono morto. Porca miseria, no. No. Sono morto. Che due coglioni. No, 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 no. Facciamone un'altra. No, che imbecille che sono. Entro in una che è già quasi piena di giocatori. Così non aspetto. C'è questa. Miseria, qualche miseria. Miseriaccia è iniziata. Ecco, non posso entrare in questa area. Fanculo. Entriamo. E dai. Eh, ma. Entriamo in questa. Se mi fa entrare. Non mi fa entrare. Questa, questa. Dai, dai, dai. No, server full. No, è full. Porca troia. Entriamo in questa. Oasis. Dovrebbe entrare subito dalla gente. Visto che non ci sono più server vuoti. Ah, niente. Vi gustate due partite. Almeno questa volta mi avete visto morire per una cosa stupida. C'è. Porca miseria. In questa dovrei trovare subito. Ah, ok. Se adesso spawno lì. Devo correre subito a prendere il cibo. Che è la cosa più importante. Le cani da zucchero. Ci si fa qualcosa. Mmm, no. Zucchero. Libri. No. Quindi non mi interessa cactus nemmeno. Ecco, tipo, in quelle cose lì c'è. Ci deve essere una cesta. Poi, boh. Basta. 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 Perfetto. Dove andiamo? Ah, sempre con i laghetti. Dai, dai, che siamo metà giocatori. Uh. Che figo. Da-ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Batman Batman Perfecto Oh cacchio, bloccato Via, 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 via No, c'ho la corsa spastica Via, via, dai, dai Dai, mio, mio Mio, 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 mio È tutto mio Tutto mio, mio Plasmon, mio, mio, mio Plasmon, plasmon, è mio Ok, dov'è che troviamo? Ok, lì, ci deve essere una chest Ok, qui tutto esplode ora Dai, ecco Sono un genio, lo sapevo Ho sparato a casa, non pensavo che esplodesse veramente Ci deve essere qualche chest Sì, però Rischerei di esplodere insieme a tutti Visto che arriva adesso uno stupido e si fa esplodere No, sapete cosa faccio fare? Faccio esplodere tutto Amo griffare io Dai Sì, ecco Ecco le Sì, scommagliate hanno già trovato la chest Con tutto E io qua che gioco a fare il grieffer Vediamo, vediamo un po' Ok Guardo se ci sono chest Ma non ce ne sono Ok Avete visto un mio griffing in live Fantastico Ho sempre voluto fare il grieffer Fare video a missioni È stato sempre il mio sogno Da quando ho aperto il canale Allora Oh cacchio Ma che cacchio Ma che cacchio Un'altra entrata segreta Ah no Sì Però l'hanno già fatta esplodere E hanno già preso tutto Non mi lasciano niente Non mi hanno lasciato niente Ok Mettiamola qui Prendiamo subito questa roccia qui E Andiamo giù Sì ma non mi distrugge la workbench Per favore Dai Ti piace tanto divertirti Cioè non lo so Sono qui a perdere tempo Dai che dobbiamo fare Dobbiamo Equipaggiarci al meglio Ottimo Prende la mia La mia Workbench E andiamo giù Cioè andiamola dove ho fatto esplodere Visto che ho lasciato un po' di ferro Qui Peccato che non c'erano delle ceste Sono esplose Cioè non capisco perché abbiano messo a TNT Se non c'era alla fine niente Per farci perdere tempo Sicuramente sì Quello dell'altro team Sta E' già giù Non vado qui che c'è già uno Vado in un punto dove non c'è nessuno Così ho più possibilità di trovare qualcosa di interessante Ah comunque c'ho anche il cibo Quindi Ora basta perdere tempo Andiamo giù Mi devo ricordare anche di prendere la pietra Visto che non ho pietra per farmi una fornace O adoro quando becco la Sandstone Perché si distrugge subito Eccola No Sì Sì Eccolo Eccolo di quello di cui vi parlavo Fantastico Vediamo se c'è qualcuno Non c'è nessuno Andiamo giù Dai 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 Via 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 Fantastico Fantastico Favoloso Oh cazzo No 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 Oh mio dio Oh mio dio Che deficiente Che deficiente Che sono Guardate quante belle pozioni Che deficiente No Stupide trappole Mi dimentico sempre di guardare se sono trappole in giro Niente Niente shunting table Niente spade Niente armi Niente Peccato Se vabbè Adesso devo vedere bene cosa sono quelle pozioni che ho trovato Che imbecille che sono Veramente Però davvero bello Finalmente ho trovato qualcosa Il bello è che io sono sempre fortunato certe volte Trovo sempre questi punti Questi dungeon Ed ecco qui Un altro punto dove scendere Vi devo fare delle torce perché voi non ci vedrete nel video Giustamente Non ho voglia di alzare la luminosità al 100% L'ho alzata al 50% Più di così non posso fare niente Non ho voglia Ecco Ecco Tardi Sei arrivato tardi Ho già preso tutto io Prendo il ferro qui E non ho legna Non ho legna Basta Non voglio consumare la legna Ah niente Andiamo giù Per prendere il ferro Uh Cos'è questo posto? Ah lava Un assorgimento di lava naturale Eh vabbè dai Quello è già andato lì Penso che abbia già piccoli di pietra Se no che La cosa Perché scenderebbe fin giù Devo svuotare un po' il mio inventario Beh Niente Andiamo dall'altra parte Prendiamo qualche torcia Qui Lo svuotiamo qui Senza buttare qualcosa di importante Questo non mi serve 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 I seed Anche se mi servono per il cibo Alla fine Non crescerà mai Così in fretta Devo avere delle ossa È vero Devo avere delle ossa Vabbè Allora Abbiamo la weakness Fire resistance La weakness La weakness Ha la debolezza Favoloso Incontro qualcuno Li butto la weakness Diventa 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 uno forte Come un criceto Sì Dopo io sono invincibile Contro quello Perfetto Ah sì Allora Dovrai trovare Dai Dai Che perdita di tempo Trovato No E dai Non c'è Mi serve Un flint Oh là Eccolo Perfetto Lì non c'è niente Visto che è sceso Quello là Qui pure Dai Mi faccio Subito Dai Mancano otto minuti Mi faccio una fornace Ah ma ne ho già Ok Stavo già per urlare Visto che non trovavo La workbench Ok Ferbone Ferro Non deve venire Nessuno A rubarmi La mia roba Sta arrivando Oh mio dio Sta arrivando Il mucchio di gente Sto Sto inchinato Sto inchinato Dai Ah, mi faccio anche i panini Ok Queste li tengo Eccellente E uso la resistance appena inizia la partita Anche la weakness la butto al primo che incontro con la spada di diamante Anche il primo che incontro, giusto per ucciderlo E anche il veleno, lo uso per un altro Spero di non fare un casino e di buttarmi il veleno a me Ok, mi faccio subito la spada di ferro E ok, così siamo a posto, giusto? Sì, metto ordine per la battaglia Ok Ah, sì Eh, se ci avessi un enchanting table, mamma mia Vabbè, io mi sono buttati Massimo se trovo un enchanting table mi faccio la spada di ferro Non ho le string per farmi l'arco Però se lo trovo lo uso Motherfuckers, yeah Yeah Ottimo Fino ad adesso dovremmo andare bene Sì Eh, non ho più ferro Andiamo su Perché non ho più ferro Ok Possibile che non ci sia neanche un po' di ferro Non c'è nessuno Non c'è nessuno Via No, qui c'ero già venuto Niente Dove andare o su o giù Sì, lascio la roba giù Tanto non c'è nessuno Massimo corro Faccio il garino Andando in giù Se adesso incontro qualcuno qui Ma non c'è nessuno E non c'è il ferro Oh, sono due là Torniamo alla mia postazione Che la sposto ora Visto che non c'è più ferro Mi faccio i piedini Ok E andiamo via Leviamo le tende Sì, in casa mia ho le tende Voi avete le porte, io le tende Mi piace quello stile persiano Stile Jimi Hendrix Tappeti persiani Colore divani rossi Tessuto egiziano Yeah Ok Anch'io vado su Alla ricerca del ferro perduto Ah, siamo ritornati nel punto figo In cui avevo visto prima Niente Ce ne andiamo Mancano quattro minuti Boh Cioè io potrei partecipare anche così Alle battaglie tanto Però I gambali Potrei anche farmeli Dai Ed ecco l'uscita Il paesaggio con il muro Via Sta arrivando anche giorno Perfetto Quindi non dovrò impazzire A mettervi le torce Così voi ci vedete qualcosa Eh sì devo trovare il ferro Cerco un punto dove sono scesi gli altri E vado in giù Che male Allora Un'altra workbench Ma Ah ok Si va ancora giù Ottimo Una chest Eh ma ci sono già andati Secondo me Vedete le chest Dove le trovate Nei punti più strani E più difficili anche Non penso che L'abbiano lasciata vuota Ok Il tempo sta per finire Devo sbrigarmi Si E' vuota Chissà che cosa c'era di figo Là dentro Andiamo a vedere là Devo andare Dove sono gli altri Non li vedo Cioè vedo qui Ma Non so precisamente dove E Si lo so C'è buio Non vedete niente Aspettate Tanto è solo una caverna Oh là Forse ho trovato il punto Si Porca miseria Ma che cacchio Ho fatto Sono tutti Si sono messi Nei punti Ah eccoli Mi serve il ferro Vediamo se lo hanno Ma questo è il punto In cui dove ero io Prima No Ma che due Coglioni Qui non c'è niente Niente Allora vediamo come sono messi Quasi bene No Niente Non mi vogliono dare il ferro Oh cacchio Andiamo di qua invece Visto che là C'ero io prima Non c'è niente Ma loro non lo sanno Stay together Stay together I need iron Eh si I need iron Andiamo da lui No un minuto Non buttare una lava Oh mio dio Ne ha solo uno Ok 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 One more One more One more time Eh niente Non ce l'hanno Anybody found a shunter No Nessuno ce l'ha Niente Vediamo cosa posso farmi Ok a posto Oh niente Andiamo Andiamo ad andare su Però Voglio stare con questi Voglio fare un po' di team Dai Go upstairs Yeah Andiamo su dai Perfetto Questo è un bel team Dai Stiamo tutti Ok Stiamo tutti insieme Ok Questi mi piacciono Eh ora È un casino We attacking Or defending Eh Boh Fate come volete Ok Ah Grazie Un po' di bug Ci stanno sempre Ah e questo è il punto Dove ero io Tutto grazie a me Eh Andiamo via dai Devo stare attento Perché potrebbe esserci Della gente Se sto shiftato E vado su È meglio Però vado più lento Spero che anche gli altri Lo facciano Non lo stanno facendo Eccellente Ho tre livelli Quindi se trovo Un shunting table Sarebbe un bene Ottimo 360 Ma lì c'è una chest Però l'hanno già aperta Secondo me Uh Un cattivo No Devo stare insieme Mangiamo Perfetto Sto insieme a loro Visto che è meglio No Che imbecille Devo stare attento A non guardarmi Devo guardarmi dietro Perché se no Ci circondano Tagliamoli la strada Eh che cazzo Ma che cacchio è Bibip Sta correndo come un matto Guardatelo Ecco è meglio così Mi butto questa Ah si la mangio Uh Uh No niente C'ho anche la weakness Quindi La weakness La metto qui No 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 Sempre Ricordare Sì Sì L'ho ucciso E vai Ok L'ho attaccato Prima che morisse Cioè Prima che si buttasse Muori 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 Muerto Ottimo Voglio usare Questa weakness Cacchio Eh Non c'ho niente Voglio usare Questa benedetta weakness Ce n'è uno laggiù Grande here Ah si è vero Mi servivano I gambali Oh grazie Perfetto Devo trovare Un enchanting table No lag Devo trovare Un enchanting table Il cibo Per adesso me lo tengo Visto che è la cosa più importante Però voglio darglielo Visto che è stato bravo Con me Toh Perfetto Bel team Watch out Sì sì Io mi guardo Sempre alle spalle Oh cacchio Un nostro Compagno è morto Questo Ok E' con noi Perché Me lo segna verde Cioè Non è del team verde Ma Sì E' del team rosso Però Quando io li vedo Me li segna Verdi Così E i nemici Li segna rossi E' una figata assurda Ecco E' rimasto Uno del team blu Ok Quello è il mio compagno Oh eccolo Eccone uno No Ho bruciato il mio compagno Muori Sì Ha cominciato a bruciare L'ha ucciso Patrick Bravo Il team miello E' stato eliminato Grazie a Patrick Grazie a Patrick Perfetto Uffa Devo usare la weakness C'ho anche la lava Devo usare Se posso Non ho un arco Giusto? No Need to regen Almost died Oh cacchio Oh cacchio Ah si Questo è il tasto Lo dimentico sempre Butto anche le frecce Tanto No Già pieno Io punterei Ad andare verso la Visto che E' un punto dove Non ho guardato Potremmo trovare qualcosa Alcune volte Mi dimentico E Mi attacco così tanto Al microfono Che sentite anche I miei respiri Così Sì io ce l'ho To Perfetto Perfetto Mangia Da bravo bambino Thanks Ottimo Eh ma adesso Il problema è che Neanche io non c'ho più Non c'ho più cibo Quindi vorrei trovare Tutti Da uccidere Tutti quelli da uccidere Down Giù Vediamo dove Ok Seguo Patrick Sa dove andare Eccolo L'abbiamo massacrato Lo supero Guardate cosa faccio No Ho bruciato Patrick Come sempre Poverino Ok E non ho usato ancora La weakness Perché ho paura Di buttarla Verso i miei compagni Ok It's ok Segni might be broken Fixing Quella è una cosa Del server Non c'entra Uh MC Painter Ha ucciso l'ultimo Dei team blue Team blue Is eliminated Bene Dobbiamo cercare L'ultimo rimasto L'ultimo sopravvissuto MC Painter Cerchiamolo Patrick Spero che Sia dietro di me Sì Grandissimi Con questo vorrei usarla weakness Userò questa fottuta weakness Massimo la uso su di me Eccolo 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 Vorrei butt Sì L'ho tirata Oh cacchio Sì Sta scappando No Mi sta per finire Oh merda No No Che deficiente Si è buttato nella lava Via Muori 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 Non ho più Cibo Cioè Non posso più correre Ma che cacchio sta facendo Sono questi i suoi metodi Per scappare E niente Io non posso più correre Spero che Patrick lo riesca a uccidere Massimo Se viene ucciso Sapete cosa faccio Di taglio la strada Eh sì Per questo Se mi tenevo il cibo Per me Uh Ha vinto Ha vinto Sì Grazie Uh You want Your team won the game Second another game To play again Ok a posto Ho vinto Il mio team ha vinto Perfetto Nice Good game Ora spero che non mi ballino Per caps E E niente Eh sì Se mi tenevo il cibo per me Gli altri morivano E preferisco giocare di squadra Che giocare in singolo In questi server Visto che Trovare gente così seria È più bello Perfetto Vi saluto Ciao 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 Ciao